Il bilancio dei carabinieri non hanno scoperti 200 lavoratori a nero, 110 arresti tra spacciatori e autori di furti e rapine. La Giunta fa il punto sugli interventi eseguiti e su quelli futuri, dal PNRR oltre 10 milioni per la nuova sede della Scuola Pier Cironi. L'Agenzia Spaziale Italiana Guarda Prato, incontro tra il Sindaco Biffoni e il Direttore Cosmo. Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. I carabinieri tracciano il bilancio 2022 sul fronte dei controlli e le attività produttive. Sono stati scoperti 200 lavoratori a nero ed elevate sanzioni pari a 1,4 milioni di euro. Arrestati 60 spacciatori e 50 persone responsabili di furti e rapine di strada. Sentiamo quindi il bilancio nel servizio. 60 spacciatori arrestati e 60 chili di droga sequestrati, 50 persone in manette per furti e per rapine in danno di passanti sulla pubblica via ed altri 130 soggetti denunciati in stato di libertà per i medesimi reati, 150 procedimenti penali aperti per maltrattamenti in famiglia, stalking ed episodi di violenza domestica. Sono alcuni dei dati dell'attività 2022 dei carabinieri di Prato, un anno intenso nel quale i militari sono stati impegnati su più fronti, poco meno di 5.000 gli interventi effettuati, 14 al giorno, in tutta la provincia, di cui 3.500 nel comune di Prato. Importanti i numeri dei controlli effettuati nell'ambito del contrasto alle forme di illegalità nel sistema produttivo, lavoro nero e sfruttamento lavorativo, impiego di manodopera clandestina, sicurezza sul lavoro. In tali ambiti, le stazioni dei carabinieri, il nucleo ispettorato del lavoro dell'arma e i carabinieri forestali hanno ispezionato circa 250 aziende, metà delle quali condotte da cittadini cinesi. In tutto sono stati rintracciati circa 200 lavoratori irregolari, di cui la metà clandestini, e sono state fatte oltre 300 sanzioni per un totale di 1,4 milioni di euro. 95 attività hanno inoltre subito la sospensione. Tra le operazioni effettuate nel 2022 si ricordano la denuncia di otto giovani per danneggiamenti, minacce e tentati furti commessi nei pressi dell'Omnia Center, sia in danno delle attività commerciali, sia dei clienti. L'indagine spray ha consentito di arrestare cinque soggetti responsabili di decine di furti in abitazione e presso negozi, commessi a Prato, Firenze e Pistoia, mentre risale ad un anno fa l'attività investigativa, in collaborazione con il NAS di Firenze, che ha consentito di individuare e denunciare un medico di famiglia della montagna pistoiese, il quale aveva falsamente attestato di aver somministrato decine di vaccini anti-covid, al fine di far rilasciare le certificazioni Green Pass a soggetti Novax. I carabinieri hanno arrestato per tentata rapina in concorso un minore di 17 anni, di origine marocchina, con precedenti e senza fissa dimora, che insieme ad un altro giovane aveva tentato di sottrarre dal supermercato Coop di Via Targetti vari generi alimentari e superalcolici. I due ragazzi, malgrado la notevole affluenza di clienti, sono stati notati dal personale della sicurezza a trafficare fra gli scaffali. Quando sono stati bloccati, una volta superate le casse senza aver pagato, hanno tentato di fuggire spintonando gli addetti del punto vendita. Uno dei due giovani è riuscito a scappare, l'altro è stato bloccato in attesa dell'arrivo dei carabinieri, che a seguito di perquisizione hanno rinvenuto la merce sottratta, nascosta dentro un borsone sportivo. Il 17enne è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per i minorenni di Firenze. Consolato incontro di fine anno di Sindaco e Giunta per fare il punto sugli interventi fatti e quelli previsti per il prossimo anno. Il Sindaco si augura che il 2023 sia l'anno del consolidamento della ripartenza. Intanto il Ministero dice sì ai fondi per il progetto delle nuove Pier Cironi. Mi auguro che il 2023 sia un altro anno pieno di cose da fare, eventi, iniziative, cantieri, ma soprattutto che sia l'anno di consolidamento della ripartenza economica e sociale della nostra città. È questo l'augurio che il Sindaco Matteo Biffoni ha espresso per la Prato del 2023 in quello che di fatto sarà l'ultimo anno pieno del suo mandato decennale. Un anno nel quale il primo cittadino spera che le tante grandi opere pensate, progettate in cantiere, possano fare un altro passo in avanti, ma soprattutto un anno in cui il benessere generale della città migliori. La speranza è che tante delle cose che sono in campo, burocrazie permettendo, vadano in porto, a partire da quelle più significative. Abbiamo fatti passi avanti sul parco urbano, abbiamo fatti passi avanti sulla palazzina nuova all'ospedale, finalmente Anna si ha mandato lettere di es proprio di sottopasso, ma poi tante cose, tanti interventi PNRR che consegneremo al prossimo Sindaco, alla prossima legislatura, però che imposteremo adesso, penso alla piscina olimpionica, piuttosto che tanti interventi all'impiantistica sportiva e speriamo invece concretizzare nel corso di questi anni gli interventi sull'edilizia scolastica, ma soprattutto quello che mi interessa dal punto di vista generale è l'idea di consolidare la ripresa e vorrei appunto che il 23 fosse l'anno di consolidamento e di completa e totale ripartenza rispetto a quelle che sono le nostre care abitudini e soprattutto la forza della città. Nel consueto incontro di Feniano, che vede riunita tutta la Giunta, è stato ricordato il compianto Vice Sindaco Luigi Biancalani scomparso prematuramente quest'anno e proprio il Vice Sindaco, Assessore al Sociale Simone Faggi, che ne ha rilevato ruoli e competenze, ha sottolineato l'impegno per garantire il diritto ad abitare e al sostegno delle famiglie in difficoltà col caro energia. La novità importante riguarda l'edilizia scolastica, ai tanti interventi fatti e previsti per il 2023 va aggiunto quello più sostanzioso, il rifacimento delle scuole Pier Cironi. Il Governo ha firmato l'ok per il finanziamento del progetto comunale per un totale di 16 milioni, 5,4 dei quali dovranno essere garantiti dal Comune e il resto dallo Stato. Noi siamo pronti anche con tutta la parte progettuale, come ci chiede il PNRR, una parte di finanziamento importante la metterà il Comune di Prato, che è all'incirca oltre 5 milioni di euro, il resto lo metterà lo Stato. E' una cosa interessante in questa progettualità di una scuola media, che è una scuola quindi con tante aule e con una palestra importante, è il fatto che non smonteremo la scuola prima che la scuola non sia edificata. I tempi sono serratissimi perché, come tutti i finanziamenti PNRR, entro il 2026 devono essere compiuti. Mentre l'assessore allo sviluppo economico Squittiere ha ricordato che il 2023 sarà l'anno nel quale potranno essere impiegati 10 milioni stanziati dal Governo a sostegno del distretto, sul piano della mobilità l'anno prossimo dovrebbe essere terminato il tratto pratese della biciclabile Prato-Firenze e cominciare lavori per il nuovo parco giochi di Via Turchia. L'Agenzia Spaziale Italiana guarda a Prato. Il direttore dell'Agenzia Mario Cosmo ha incontrato il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore Giacomo Sbolgi, alla presenza anche del direttore del Parsec Marco Morelli e della presidente Tatiana Mancuso, oltre al professor Pratesi dell'Università di Firenze e presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Parsec. L'idea dell'Agenzia Spaziale Italiana è di utilizzare l'esperienza e le collezioni del Museo di Scienze Planetarie, una dei più importanti a livello internazionale. Da questa collaborazione potrebbe nascere una struttura a servizio dell'Agenzia Spaziale Italiana che sta investendo molto nella ricerca e soprattutto nell'esplorazione della Luna e di Marte. Il sindaco ha rivadito tutta la disponibilità del Comune affinché questa collaborazione possa concretizzarsi. Novità in vista per il cantiere di via San Fabiano abbandonato da tempo. Ce ne parla Stefano De Biasi. È arrivata la svolta per la ripartenza del cantiere di via San Fabiano in centro storico, abbandonato da anni e diventato preda di occupazioni abusive. Il Comune ha infatti approvato la nuova convenzione che consentirà all'impresa che ha rilevato di recente l'area, la di Paola Costruzioni, di realizzare 11 appartamenti in un palazzo a 4 piani e 87 garage. Quest'ultimi saranno in parte destinati a chi acquisterà gli immobili e il resto a disposizione di qualsiasi privato cittadino. È infatti venuta meno all'ultimo l'indicazione della maggioranza di centro-sinistra in Comune di destinarli in via privilegiata ai residenti del centro storico. Il progetto prevede anche la realizzazione di un parcheggio pubblico, di liberare il camminamento lungo le mura piantando alberi e inserendo verde e arredi urbani e poi l'illuminazione e lo spostamento in via Curtatone di una cabina Enel. La ditta di Paola Costruzioni conta già da inizio primavera di poter fare ripartire il cantiere di cui ormai si parla da oltre un decennio in centro storico per giungere poi alla conclusione dell'intervento entro aprile 2024, dando così una risposta non solo alle esigenze di nuove case in città a livello abitativo ma anche alle necessità di nuovi posti auto a servizio del centro storico. Il centro-sinistra non decide perché deve conservare un sistema di consenso e di potere. Così il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Tommaso Cocci, ospite dell'ultima puntata prima della pausa natalizia della rassegna stampa mattutina, prima di tutto la programmazione riprenderà regolarmente il prossimo 9 gennaio. Intanto però sentiamo un estratto a proposito. Credete di avere con le persone un rapporto diverso, più schietto di quello che il centro-sinistra mette in campo da anni in questo territorio? È più semplice perché non abbiamo da conservare un sistema di potere, quindi è un dato oggettivo, non è che siamo più bravi su questo o meno. Secondo lei questo è uno dei punti? Non si riesce a decidere perché c'è da conservare un sistema? È un sistema di consenso e di potere e di posti che crea un sistema di veti incrociati. avendo una forza politica che non ha da un punto di vista quella capillarità sul territorio da un punto di vista di sistema di potere, non di militanti e di sezioni, le decisioni forse le riesce a prendere con maggior distacco. La partita delle multiutility è stata gestita in maniera più conforme rispetto all'interno del centro-destra che rispetto ai conflitti del centro-sinistra. Il centro di prevenzione oncologica Eliana Martini si trasferisce nella nuova sede di via Galcianese a Prato. Da oggi al 6 gennaio la vecchia sede di Porta Leone resterà chiusa per consentire le operazioni di trasferimento. Durante il periodo di chiusura tutte le attività programmate saranno effettuate in altre sedi. Gli operatori contatteranno telefonicamente i cittadini che hanno un appuntamento. La segreteria resterà comunque sempre attiva. Per informazioni è possibile chiamare il numero in sovra in pressione. Dal 9 gennaio 2023 sarà pienamente operativa la nuova sede del centro prevenzione oncologica Eliana Martini in via Galcianese. E adesso le previsioni del meteo come sempre a cura del Consorzio Lama. A voi la linea. Si salve e ben ritrovati con l'appuntamento meteo offerto dal Consorzio Lama. Alle mie spalle vediamo le immagini che ci giungono dal satellite e ci mostrano un film già visto in questi giorni. Scarse le variazioni dal punto di vista della circolazione a grande scala sul continente con l'alta pressione di origine africana che si spinge fin sul Mediterraneo centrale e con le perturbazioni atlantiche che viaggiano a latitudini molto superiori. Interessando, lo vedete, isole britanniche e il nord Europa. Sul Mar Ligure permane tuttavia la presenza di un minimo secondario. Favorisce venti e flusso di correnti umidi e meridionali che rinnoveranno anche per la giornata di oggi la presenza di consistenti nubi di tipo basso, soprattutto sulle zone interne della regione. Andiamo a vedere infatti la grafica delle previsioni del tempo per questo pomeriggio. Cielo prevalentemente coperto sul nord e sulle zone interne della regione con ancora possibili pioviggini intermittenti e deboli, più probabili a ridosso dei rilievi. Pioviggini che tenderanno poi a divenire via via più isolate fino a cessare nel corso del pomeriggio. In Maremma si potrà avere la speranza di poter vedere un sole velato, qualche timida schiarita. Ventilazione ancora debole o a tratti moderata sulla costa meridionale dove il mare si presenta mosso. Le temperature fino a 14-16 gradi, lo continuiamo a dire, sono valori anomali per il periodo ben superiori a quelli tipici del periodo natalizio. Uno sguardo anche alla giornata della vigilia. Inizialmente poche variazioni, molte nubi sulle zone interne, qualche pioviggini. Pioviggini, il cielo un po' più velato in Maremma, le temperature stazionate. Nel pomeriggio non è escluso che si possa trovare a vedere il sole anche nelle zone un po' più interne della regione. Lo vedete, nubi basse in attenuazione, permarranno delle velature probabilmente. In graduale attenuazione anche fenomeni di pioviggini e temperature ancora su valori decisamente molto elevati. Per Natale cambia poco ma forse le schiarite possono essere un po' più consistenti, soprattutto nel pomeriggio. Bene, con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Termina qui questa edizione del nostro Tg, vi ricordo alle 17.30 in diretta dalla Chiesa Parrocchiale dell'Ascensione Alpino, la recita del Rosario e la celebrazione della Santa Messa Feriale. Il nostro Tg torna invece questa sera come di consueto alle 20.30. Grazie per averci seguito, una buona giornata, arrivederci. Grazie per averci seguito.